Musica Potente appare ragazzi, guavax loci E oggi sono qui a presentarvi questo brevissimo video Nella quale voglio porre, se dice così, i miei più sinceri auguri di buon Natale a voi e alle vostre famiglie Vede infatti, o meglio, anzi no, voi forse vi stavate aspettando un video diverso da questo Vi stavate aspettando un fucking time Però ragazzi, c'è stato un problema Perché infatti ieri sera avrei dovuto avere la serata libera per appunto registrarlo Poi non ce l'ho più avuta, stamattina dovevo fare il video ma ero in uno stato veramente pietoso per farvelo Non volevo farvi vedere in quelle condizioni, se possiamo così dire Quindi eccomi qua a presentarvi un video veramente semplice Nella quale voglio porre, le mie più sinceri auguri di buon Natale Perché infatti, il Natale è una festa che io tengo particolarmente E ci tengo a fare i vostri auguri Perché infatti, se ci fate caso, un anno fa esatto, ho voluto coronare questa festa con un video particolare Il primo episodio, Telephone Time Adesso, quest'anno non sono riuscito a portarvi il secondo episodio Esattamente un anno dopo del primo episodio Non so se avete capito, però uscirà a breve, vi dico solo questo Comunque ragazzi, successivamente vi volevo ringraziare per tutto il supporto che mi state dando Vi vi avete dato, vi spero vi darete Perché infatti abbiamo raggiunto i 95.000 iscritti Mancano solo 5.000 iscritti e 100 se la matematica non è un'opinione Quindi noi inizieremo il 2015 proprio col voto su YouTube Pum, pum, pum Detto questo, a meno se vedete che abbia altre cose da dire Il Faculti Time arriverà Se volete farmi domande così pare, potete farmi anche qui sotto Basta che appunto, essi siano precedute da L'hashtag, hashtag spot Con i due punti Con pure anche i nomati come volete E fate la vostra domanda Se mi piacerà, la scenderò e la utilizzerò nel secondo episodio del Faculti Time Lo che esce Natalizza per augurare ancora il tuo Natale a voi e vostre famiglie Mi raccomando, divertitevi di fare tutto quello che volete E detto questo, vi saluto e vi dico Buon Natale Siamo al prossimo video Ciao a tutti